una dimora che alimenta la tua energia un'energia di luce che ogni giorno va in scena con colori sensazioni e profumi diversi in uno spazio di nuove emozioni senza confini qui Isabella Francesi fashion designer milanese ha percepito fin da subito questa energia e vi ha realizzato la propria dimora tailor-made quella che oggi si respira nell'area della ex fabbrica Molinari di via Iraghi 30 a Milano è l'energia particolare di un piccolo quartiere abitato da artisti dove veicoli cortili suggestivi e giardini naturali convivono con una ritrovata socialità e riservatezza vivere in via Iraghi 30 significa appartenere a questo mondo creativo e voler condividere questa filosofia a pochi minuti a piedi dal centro commerciale portale la ristrutturazione della residenza un appartamento di 203 metri quadri oltre una terrazza verde di 100 metri quadri ha mantenuto il sapore originario dell'edificio industriale degli anni 40 valorizzando la notevole luminosità con ampi ambienti fluidi la privacy l'assoluta silenziosità è la garanzia di una sicurezza del luogo rendono questa dimora un'oasi naturale, in una Milano pulsante e da vivere. Gli ampi spazi, la luce intensa e carica di energia, l'interazione degli ambienti interni con il giardino esterno, la cura di ogni dettaglio unita alla ricerca di arredi esclusivi rendono questa residenza unica nel suo genere. Un luogo nel quale sentirti te stesso. Grazie.